Sono stati rintracciati e riportati immediatamente in ospedale i due cittadini stranieri contagiati dal coronavirus scappati questa mattina dal policlinico riuniti di Foggia. I giovani migranti, un ragazzo 27enne del Mali ed un 23enne nigeriano, erano riusciti ad allontanarsi dalla struttura sanitaria intorno alle 6.30 del mattino, fuggendo da una finestra. Risultati positivi al covid, ma entrambi esintomatici, i due erano tenuti in osservazione presso il padiglione colonnello d'avanzo del policlinico in attesa di negativizzazione del tampone. Quando si sono accorti della loro fuga, i medici della struttura ospedaliere hanno allertato la polizia di Stato, che ha fatto scattare immediatamente le ricerche che si sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi. Sulla questione è intervenuto il direttore generale del policlinico di Foggia e il dottor Vitangelo Dattoli, dichiarando che l'ospedale non ha i mezzi e non ha il potere di limitare la libertà personale dei ricoverati e dunque non può bloccare eventuali fughe o allontanamenti dei soggetti ricoverati in quarantena da positività covid. In questi casi, ha sottolineato il direttore generale, soli i prefetti hanno il potere di disporre le misure per garantire il rispetto della quarantena. Ciò nonostante, il policlinico di Foggia sta facendo tutto il possibile per mettere in campo un'organizzazione di sorveglianza più stretta. Un episodio analogo a quello di oggi era accaduto due giorni fa, quando un ragazzo della Nuova Guinea, ricoverato sempre e riuniti perché positivo al coronavirus, anche se sintomatico, si era allontanato arbitrariamente senza lasciare traccia. La sua fuga, fortunatamente, era durata però solo poche ore. Scattate le ricerche, il giovane migrante era stato intercettato dagli agenti in piazza San Francesco e riaccompagnato nel reparto malattie infettive del policlinico.